Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale L'ite furibonda finisce a coltellate, un arresto Il sindaco di Pesaro Ricci si schiera con Ceriscioli Finalmente un presidente che non perde tempo A Pesaro, l'hotel in legno più alto d'Europa Presentata oggi l'ottava edizione della Coppa del Mondo di Ginnastica Rittica Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Cominciamo dalla cronaca I carabinieri di Cagli hanno arrestato un magrebino di 38 anni Che alle 4 di mattina all'interno di un appartamento Ha ferito con un coltello un suo connazionale Con il quale stava litigando pesantemente A dare l'allarme ai carabinieri Sono stati vicini di casa, svegliati dalle urla e dal frastuono Dopo aver individuato l'abitazione I militari hanno raggiunto luce e sfondato la porta Trovando la vittima distesa a terra immobilizzata dal suo connazionale L'uomo era riuscito a bloccarlo con le gambe Mentre lo minacciava con un coltello All'invito dei carabinieri di lasciarlo stare Di gettare l'arma per tutta risposta Il 38enne gli ha sferrato due coltellate Una alla coscia e l'altra ad un gluteo Solo l'intervento deciso dai militari Ha evitato il peggio E permesso di bloccare il pluripregiudicato E di arrestarlo in flagranza di reato Per portarlo poi in carcere Ora si trova agli arresti domiciliari In attesa del processo che si terrà il prossimo 8 aprile Dovrà rispondere anche di detenzioni di sostanze stupefacenti Aveva con sé 16 grammi Che i carabinieri del reparto radiomobile di Fano Che sono andati ad aiutare i colleghi Ne hanno trovato addosso Il connazionale ferito invece è stato medicato all'ospedale di Urbino E ne avrà per una ventina di giorni E sono stati celebrati oggi pomeriggio Nella chiesa di Gimarra a Fano I funerali di Massimo Sabattini Il quarantenne trovato morto sabato scorso Da un amico nel bagno della sua abitazione A dargli l'ultimo saluto Oggi erano in tanti Oltre ai familiari Anche gli amici di sempre Quelli che gli hanno voluto bene Che oggi non sono voluti mancare Per l'ultimo saluto E per l'ultimo viaggio Appunto di Massimo Sabattini Proseguono le reazioni della politica Dopo il progetto che è stato presentato E depositato in Regione Progetto che riguarda il nuovo ospedale unico Ad intervenire oggi è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Che ha detto Lo sentiremo tra un attimo Finalmente Riferendosi chiaramente al presidente della Regione Ceriscioli Finalmente un presidente che non perde tempo Dopo tanti anni finalmente si fa un concreto passo avanti Per il nuovo ospedale Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Commenta la notizia del progetto Da 150 milioni di euro Depositato a Palazzo Raffaello La struttura pensata dalla società Inso Sistemi Differenze Per l'ospedale Marche Nord Nel sito di Fosso Signore Dovrà servire un bacino di 500 mila abitanti E comprende oltre 500 possi letto 16 sale operatori E 3 sale di day surgery E una superficie ad uso sanitario Di circa 65 mila metri quadrati Ha avuto modo di visionare il progetto Il primo progetto che è stato presentato in Regione Sul nuovo ospedale? No, non l'ho ancora visto Se non sui giornali Però me ne ha parlato Qualche minuto al telefono Ceriscioglio Ovviamente sono curioso di vederlo E sono anche soddisfatto Che finalmente si faccia sul serio Siamo ovviamente in attesa di vedere Anche quelli che riguardano altre aree A partire da quello che secondo noi È la scelta più logica Che è Muraglia Dove sace un pezzo di ospedale Dove costa meno Dove ha minore impatto Eccetera Però vogliamo vedere anche questa Di Fosso Signore Perché di certo Da parte del Comune di Pesaro Ci sarà la massima collaborazione Affinché l'ospedale si faccia Si faccia il primo possibile Che lei sappia C'è già qualcun altro pronto A presentare un ulteriore progetto? Da quello che mi risulta Verranno presentati i progetti Anche su altre aree Compresa quella di Muraglia Chiarucce A case bruciate Quindi credo che Verranno presentati anche altri progetti Sulle altre aree Messe a disposizione dei Comuni Sono molto pragmatico Penso che prima di tutto Noi dobbiamo avere un nuovo ospedale unico Pubblico Perché non possiamo andare avanti così Dobbiamo avere assolutamente Un investimento in questa direzione Altrimenti continuerà A crescere la mobilità passiva E non riusciremo a potenziare La nostra sanità Penso anche che Dobbiamo fare un ragionamento serio Sul privato convenzionato Però ecco Io guardo il bicchiere mezzo pieno Nel senso che È molto positivo Che finalmente c'è un presidente Che non perde tempo Che vuole farlo Che ha trovato i soldi E che comincia a fare i progetti Dopodiché Se riusciremo nel frattempo A trovare un accordo tra i sindaci Bene Altrimenti come abbiamo detto Già a novembre Deciderà la visione A intervenire sull'argomento È stato anche Boris Rapa Per il consigliere regionale Di Uniti per le Marche Il clima che si sta generando Attorno all'ubicazione Del nuovo ospedale Deve essere ricondotto A una partecipazione Condivisa e di massima trasparenza Prima che si arrivi A un punto di non ritorno Infatti è bastato Il primo progetto Per far scatenare Le reazioni della politica I socialisti fanesi Credono sia opportuno Affidare ad un organo Tecnico politico Extra regionale Il compito Di eseguire uno studio Per capire Quale sia il sito migliore Noi giovani per Fano Crede invece Che il presidente Della regione Ceriscioli Debba avere il coraggio Di riconoscere Sia le inefficienze Dell'amministrazione sanitaria Che il valore Del sito di Chiaruccia Non faccia L'ex sindaco di Pesaro Si legge in una nota E spinga Per una riorganizzazione Al servizio Dei cittadini Che lo hanno eletto Per il partito Comunista d'Italia Federazione Di Pesaro Urbino Fosso Segliore Non è il luogo Adatto per costruire Il nosocomio Lo dimostrano Fanno notare I recenti interventi Di assesso Del manto roccioso Che provoca spesso Frane a ridosso Della strada provinciale Della statale 16 Inoltre È una zona scomoda Da raggiungere Se si proviene Dalle varie aree interne Della provincia A differenza di Chiaruccia Facilmente raggiungibile Dall'entroterra E da Pesaro I comunisti Inoltre Lanciano un appello A tutte le forze politiche Affinché venga fatta Una mobilitazione In favore Della sanità pubblica Il fondatore Di Eden Viaggi Nardo Filippetti Ha presentato Questa mattina L'hotel In legno più alto D'Europa Che sorgerà Sul lungomare Di Pesaro Edificato in due mesi Per 2500 metri quadrati Divisi su sette piani E 28 metri di altezza Il Nautilus L'hotel In legno più alto D'Europa Verrà realizzato In Viale Terese A Pesaro Per rinnovare L'offerta turistica Della riviera adriatica Nel segno Della sostenibilità Questa E' l'ultima sfida Di Nardo Filippetti Fondatore e presidente Di Eden Viaggi Che ha presentato Alla stampa La nuova struttura Ricettiva Che verrà inaugurata Nella prossima primavera L'albergo Che coniuga Un corpo preesistente Con uno costruito Ex novo Si affaccia Direttamente Sulla spiaggia E ha oltre 700 metri quadri Di spazi esterni Il progetto Inoltre E' una vera e propria Oasi Ecosostenibile Perché rispetta Dei criteri Rigorosi Di bioedilizia Innovativo A partire dai materiali Il legno In primis Più sicuro ed efficace Del cemento In termini Antisismici Termoisolanti E per le proprietà Ignifughe Grazie a lavorazioni Che rendono Le nuove costruzioni Più resistenti Al fuoco Ci sono voluti 15 trasporti Eccezionali Per portare In cantiere 788 metri Cubi di legno Oltre a 240 mila Viti E 4600 Connessioni In acciaio Per l'aggiunzione Dei pannelli Il nuovo Fiorello L'occhiello È pensato Per l'esigenza Di un turismo Familiare E dispone Di 111 camere Con stanze Comunicanti E family room Da 4-5 posti letto L'attenzione All'esigenza Degli ospiti Più piccoli È curata Da uno staff Specializzato Per i bimbi Fino a due anni C'è anche una cucina Attrezzata Per la preparazione Delle pappe Il ristorante Propone i piatti Della tradizione Marchigiana Privilegiando Prodotti A filiera corta E materie prime A chilometri zero È filato Inoltre All'associazione Italiana Celiachia L'artista Fanese Sergio Carboni Ha donato Un altro Suo dipinto Alle forze Dell'ordine Questa volta Al comando Provinciale Della guardia Di finanza È intitolato San Matteo E raffigura Il santo patrono Delle fiamme gialle Che protegge Un finanziere Impegnato In attività Di vigilanza Doganale Alle frontiere Sui confini Montani È questo L'ultimo dipinto Realizzato Dall'artista Fanese Sergio Carboni E consegnato Al comandante Provinciale Della guardia Di finanza Antonino Raimondo Alla consegna Era presente Una numerosa Rappresentanza Del personale Tra ufficiali Ispettori Sovintendenti Appuntati E finanzieri Nonché Alla presenza Del cappellano Militare La donazione È avvenuta In occasione Della solenne Celebrazione Del precetto Pasquale Interforze Che si è svolta Nella cattedrale Di Santa Maria Assunta Di Pesaro L'opera ha un profondo significato storico per la guardia di finanza perché richiama sin dalle origini le funzioni di vigilanza finanziaria sui confini del corpo Il dipinto verrà custodito nella caserma della guardia di finanza di Fano Nella chiesa di San Giuseppe al porto a Fano il vescovo della diocesi Armando Trasarti Ha ufficiato alle 18 una solenne celebrazione per l'avvio dei festeggiamenti San Giuseppe patrono della chiesa e della parrocchia del porto di Fano Alle 20 è iniziata la tradizionale via crucis cittadina che si concluderà in cattedrale con l'omelia del vescovo Sabato 19 sempre nella chiesa del porto alle 7 e 30 e alle 9 e 30 del mattino verranno ufficiate due messe in onore del santo protettore dei papà Nel pomeriggio invece inizieranno le celebrazioni della settimana santa con la benedizione delle palme Anche la CNA e la Confcommercio presenteranno ai fanesi il loro progetto per l'area dell'ex zuccherificio A presentare il progetto lunedì sera alle 21 alla sala della Concordia saranno CNA e Confcommercio In particolare il presidente di CNA Marco Rossi e il direttore Amerigo Varotti della Confcommercio di Pesaro Urbino È un appuntamento aperto alla cittadinanza? È un appuntamento aperto alla cittadinanza in cui per la prima volta CNA e Confcommercio in una condivisione di idee Proporranno un progetto che verrà appunto spiegato poi dal tecnico Ed è un progetto che appunto fa riferimento in questo caso ad un'idea progettuale da me sviluppata nel 2006 E che poi è stata portata avanti fino ad oggi e che in qualche modo compie i suoi dieci anni In un percorso complesso ma articolato di un progetto che verrà appunto raccontato alla città e condiviso Ci può annunciare qualcosa? Il progetto nasce un po' da un'idea che è quella di sviluppare nell'area un centro dell'innovazione marchigiana Che abbia uno sguardo verso la regione e magari anche in una dimensione ionico-adriatica Supportata da dei servizi che poi verranno puntualmente spiegati durante la serata E in particolare ci sarà anche un piccolo contributo cinematografico Proprio in ragione di questo lavoro dato dal caro amico regista Eri Secchiaroli Nella sede della palestra Venturini in via 12 settembre a Fano Verrà presentato il secondo incontro dedicato al progetto della fabbrica del Carnevale Un incontro che si terrà sabato 19 marzo alle ore 17.30 Ovviamente è un incontro aperto a tutta la cittadinanza Saranno presenti l'amministrazione comunale dell'architetto Italo Rota Che illustrerà le idee di questo progetto per il nuovo Sant'Arcangelo Ai presenti verranno mostrate anche le immagini appunto di come verrà questa fabbrica del Carnevale Sarà un'edizione da record quella della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica Che si svolgerà dal primo al 3 aprile a Pesaro 49 nazioni, 19 squadre, 65 individualiste, 80 volontari e 3 giorni Dedicati all'ottava edizione della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica Sono questi i numeri dell'evento che raccoglie le migliori ginnaste del pianeta Che anche quest'anno si daranno appuntamento a Pesaro per la World Cup Ormai di casa l'Adriatica Arena Mancano più di due settimane all'evento E chi ancora non l'avesse fatto potrà acquistare gli ultimi biglietti Direttamente negli uffici del Palazzetto dello Sport Oppure nel sito di Ticket One Saranno in tanti con la propria spinta a far volare le farfalle azzurre Allenate da Emanuela Maccarini La squadra italiana che è vice campione del mondo e in carica Si è già qualificata per le Olimpiadi di Rio Abbiamo tutte le migliori nazioni E poi abbiamo il torneo Annesso Junior Che abbiamo aperto quest'anno in Formula Team Da due a quattro ginnaste di ogni team E abbiamo ben 33 nazioni Abbiamo dovuto anche non accettare alcune iscrizioni Perché non avremmo avuto proprio il tempo per inserire tutte le competizioni Il prossimo anno aggiungeremo un giorno probabilmente Quando prenderà il via a questa edizione? Allora il via, le federazioni arrivano già da lunedì, martedì e mercoledì Questi sono gli arrivi Il giovedì ci sarà la prova podio, cioè la prova campo di gara E venerdì, sabato e domenica ci saranno le gare Venerdì e sabato gli all around, i concorsi generali E domenica le finali Soddisfatta anche l'amministrazione comunale Rappresentata in conferenza da Mila Dell'Adora Per l'assessore della Giunta Ricci Pesaro ha tutte le carte in tavola Per poter diventare la città europea dello sport per il 2017 Soddisfatto anche il presidente di Aspes La società che gestisce l'Adriatica Arena Che cosa significa ospitare e organizzare il tutto per un evento del genere? Che quest'anno sarà da record Significa mesi se non anni di programmazione E ci vuole una grande costanza e poi va bene L'impianto è quello che fa già molto del suo Viene giudicato da tutti il più bello d'Italia Il terzo in ordine di capienza Per cui insomma diciamo che ci sono tutte le basi Per continuare ad avere questo trend positivo dal punto di vista degli eventi La federazione internazionale ci ha segnato L'organizzazione del Mondiale Campionato del Mondo 2017 Che si terrà dal 28 di agosto al 5 di settembre Appunto nel 2017 all'interno dell'Adriatica Arena Adriatica Arena che si dimostra un volano fondamentale Per l'economia turistica della città Perché è l'indotto che si crea tantissimo Ma io aggiungo del territorio Perché la città di Pesaro per gli eventi che noi portiamo Non basta dal punto di vista dell'ercitività Ma viene allargata a Fano piuttosto che a Gabice Piuttosto che a Urbino Insomma tutto il territorio Per il capoluogo Marchigiano sarà dunque una vetrina planetaria L'astronave si conferma ancora una volta Capace di ospitare eventi prestigiosi e internazionali Che consentono di promuovere e far conoscere nel mondo la città di Pesaro È un record in tutti i sensi Recordo per la Coppa Recordo per la città di Pesaro Perché organizzerà un campionato del mondo Il telegiornale di Fano TV finisce qui Tra poco uno speciale dopo le previsioni del tempo Uno speciale dedicato alla Pasqua Condotto da Lino Balestra Grazie per averci seguito Arrivederci a domani Grazie per averci seguito